La valutazione della composizione corporea serve al professionista ma anche al paziente. Vedremo perché. Al professionista perché, vi ho detto già all'inizio, il professionista alla prima visita può effettivamente capire con chi ha a che fare, fotografare il soggetto e valutarne poi nei controlli i cambiamenti nel tempo. Serve anche al paziente perché è uno strumento fortemente motivazionale, perché rende il paziente consapevole dei risultati che effettivamente sta conseguendo, sia in seguito all'applicazione di un programma nutrizionale, sia anche nel caso di un programma, nel caso dei preparatori atletici, di un programma di attività fisica particolare. Quindi il primo gradino nella stesura di un valido programma di controllo del peso e dell'allenamento è la conoscenza della composizione corporea.